La Capri Napoli, la tradizionale gara di Coppa del Mondo di nuoto che porta gli atleti a coprire i 36 km che separano Capri da Napoli, torna quest'anno ad essere la vera e propria gara regina del nuoto di Gran Fondo. Giunta ormai alla 47esima edizione, la storica manifestazione vedrà al via quest'anno i più forti atleti della categoria. Ben 29 gli iscritti alla Capri Napoli, trofeo Banco di Napoli che è inserita nel calendario del Gran Prix della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Napoli ha un grande patrimonio sportivo e culturale, la Capri Napoli sicuramente lo è, il fatto che adesso si sia persa quell'ansia, la paura che non si faccia è un segno che si sta acquisendo la sensibilità nel tutelare questi valori e queste grandi ricchezze. Molto va regato anche il calendario di iniziative collaterali, tra cui spicca il villaggio che sarà realizzato alla Rotonda Diaz e che prevede tante iniziative per bambini e di solidarietà. La partenza è fissata per domenica 17 giugno alle 10.30 da Capri e l'arrivo nei pressi della Rotonda Diaz è previsto per i più forti intorno alle 16.30. È un'edizione ricca e quest'anno in un lungomare assolutamente rivalutato, un lungomare che sta facendo come immagine il giro del mondo e quindi sicuramente quest'anno c'è un valore aggiunto alla Capri Napoli che è una delle manifestazioni più importanti di questa città e della storia di questa città.